Eccoci qui, siamo tornati in diretta, abbiamo approfittato ancora per gustare qualche cocktail. Stiamo parlando di cultura, stiamo parlando di teatro nell'ultima puntata di Malalingua Estate. Io volevo tornare al maestro Mischa Vanek, perché nell'intervista che gli ho fatto per il giornale di Sicilia mi ha colpito il suo giudizio, adesso la torno a far parlare di una cosa che non è che le piaccia molto, su programmi tipo Amici, lei mi ha detto delle cose molto belle che vorrei che ripetesse. Cosa ne pensa di quel tipo di programmi? Praticamente dovrei rispondere, io direi non ne penso niente perché non le guardo, non mi interessano, ma credo che sia la morte dell'arte, perché questo è il contrario della cultura, è una falsa idea della cultura. Quando sento una persona che dice base e poi dopo arriva la musica di Tchaikovsky e la gente non sa chi è Tchaikovsky, lo stanno sentendo, io dico ma in che mondo vivo? Allora c'è l'appiattimento totale, non c'è più, non si sa distinguere niente da niente, no? Si vede però, io lo trovo questo realmente inaudibile, no? Bisogna dire c'è la morte. La morte, la morte. E invece il teatro, il teatro è una cosa terribile nel teatro perché quando c'è un momento, per esempio un secondo, si dice, è un momento morto, è una cosa morta. Il teatro parte dal nulla e crea la vita ogni giorno, no? Quando entro in un teatro la mattina, sai così, generalmente nel nord fa freddo anche di più perché non è sceso, il riscaldamento appena è ancora lì e tu senti sempre che entri in una tomba, sembra il quarto acto dell'Aida dove Radames sta lì e aspetta l'Aida, sta per morire. Poi mano a mano comincia a mettere una luce, una cosa eccetera e prenda vita. E poi dopo arrivano tutti e la prova è lì, come se niente fosse eccetera eccetera. Poi alla fine si chiude il sipario. E noi sappiamo quando comincia perché si apre il sipario e quando finisce perché si chiude il sipario. C'è una cosa, si parlava del senso sacro delle cose eccetera, che è straordinario. E' una lì e realmente questo teatro non si può fare senza comunque le persone che arrivano eccetera. E' un rito, è un rito. Lì il rito in sé viene preso, passato, filtrato da una bassa, come dire, è spesso volgare. Perché spesso con la camera, la differenza è quando si sono spettatore di un balletto o una cosa danzata, vedere una coreografia. Io scelgo quello che mi interessa di vedere. Magari il protagonista non mi interessa più niente perché non le trovo vaccinato, non so, preso lei. Ma c'è qualcuno in fondo e io vado in fondo con l'occhio e dice, ah, questa cosa. E poi dopo si vede le persone che hanno la presenza o non hanno la presenza. Qualcuno entra in scena e tu lo vedi. C'è un fattore magico, c'è uno specchio magico degli eventi del presente, del futuro e del passato. Tutto questo sparisce quando tu vedi queste cose sullo schermo. E spesso la camera che non sa, il cameraman che non sa che cosa deve riprendere, prende magari le parti meno, come dire, giuste a quel momento di una danzatrice, eccetera, che diventa un fatto volgare. E così non c'è un pensiero, non c'è un'armonia, non c'è... È solo un pretesto, come spesso se tu vai a una trasmissione, qui io trovo magnifica la nostra trasmissione, perché non c'è una musica di fondo. Sai perché la vieni lì? Siamo noi la musica, maestro. Perché deve stare lì qualcuno a fare la cosa per aiutare lo spettatore a digerire quello che non stiamo dicendo, perché qui lì, no? Come una bella ragazza che fa... Qui siamo genti veri che parlano e che dicono quello che sentano e che pensano. No, io trovo questo e mi dispiace, e questo lo devo dire, perché mi dispiace che a volte certe persone che hanno, che sono anche importanti, potrebbero fare realmente una carriera teatrale importante, si comunque piegano a queste cose perché l'invito è così facile, uno viene e poi dopo c'è tutti i fans che stanno lì, eccetera, un piccolo successo ridicolo. Lì risponderò ancora per una cosa scritta da Romain Rolland a proposito di Beethoven, giustamente, un grande autore lì, e dice il successo non importa, l'importanza è di essere grande. E con queste parole di Misce Vanetti... Di andare verso di essere grande. Noi chiudiamo la trasmissione, questo ciclo di Malalingua è stato, decala il Sibario, anche su questo ciclo che vi ha tenuto compagnia per tutto il mese di luglio. Ringrazio in particolare, non me ne vogliate, il maestro Misce Vanek che ci aveva promesso, che sarebbe venuto qui in trasmissione. Grazie al sovrintendente del teatro Saria, grazie al consigliere Giacoppe, grazie al presidente Puglisi, grazie al collega Vincenzo Bonaventura, grazie a tutti voi per averci seguito, ci rivediamo, spero, in autunno per ora, buona estate e buona vita a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti.